Senjikai Oso e trasmissione Oso, Tenjikai Kaiju Oio B o meglio Oio B Kaiju Kaiju No, non c'è Kaiju Tadahima Ora Tadahima Ora In questo momento sarebbe Tadahima 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 Karin Tadahima 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 Oso e trasmissione Sarebbe trasmissione Dove c'è la mostra o meglio all'intorno della mostra Ora C'è molto C'è molto affollamento Tadahima 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 Per il resto no Ok Il primo kanji è quello di Tenjikai Ten si pronuncia solo Ten Tenji Kai Tenji Tenji Suru Mostrare Tenji Oio Tenkai Tenkai o Tenkai? Tenkai Sviluppare Tenkai Buongiorno Alex E Massi Buongiorno Oio Gusai Mass Oh grazie Mass per la sub Thank you very much Quando diventerò ricco e potente Ti lancerò un lingotto d'oro Dalla mia limousine sui denti Gli scherzi grazie Veramente Visto che sono gli unici soldi Che prendo questo mese Olè Allora Ah ieri ho fatto l'esercizio Dopo te lo faccio vedere Ma mi devi dire una roba Io no Ottimo meglio sui denti che nel Esatto Ottimo meglio sui denti Così te li faccio anche dopo C'è un problema Nel programma Notpad 00 Io quando scrivo Cioè tipo Vabbè adesso Non in giapponese Tipo scrivo no? Quando voglio mettere qualcosa qui Non mi fa Così che mi sposta la scritta Cioè questa scritta Non me la sposta Me la cancella E ci ho messo tre ore Perché dovevo ogni volta Riscrivere tutto da capo E non potevo Cioè anche se fai copia e incolla Quando poi scrivo dentro Mi cancella la parte dopo Com'è che si fa A sbloccare quella roba lì? Cioè farlo scrivere normalmente? Hai premuto ins sulla tastiera Ins Non so neanche che cacchio è ins Ins Ah quello sopra cance Dici che è quello Ah c'è ragione Vaffan cubo Ecco cos'è Però me lo fa solo In quel programma lì Di solito sì Ok Allora sono stronzo Non mi ero neanche accordo Io pensavo che era proprio Il programma quello lì Infatti stavo diventando pazzo Te lo faccio vedere Vuoi vedere il mio esercizio? Bravo eh Cacchio l'ho fatto Ho fatto questa roba qua Ma è te questo lo sai leggere Il mio è più strong Il tuo invece è in corsiva Il mio è più banana Invece il tuo è banana Questo è l'elenco Premi qui Ogni tanto capita anche a me Di premerlo a caso bello Ti preme il mio Il mio canale YouTube Se invece clicchi su Mark Lenders O meglio Yuga Per gli amici Si apre l'altro Il mio canale YouTube Che è questo qua Dove sto facendo Cosi Qua qui Per farmi un regalo Se mi fai fare un regalo Clicchi qui E mi compri il microfono Poi cliccamelo di nuovo E si dovrebbe aprirsi di nuovo La La pagina Sì Quella di YouTube Quello giapponese E qua è un'altra pagina E ho messo Amazon E basta Per provare L'unica cosa Che non mi faceva qua Non mi fa Ho messo In una di queste righe qua Ma non mi ricordo quale La doppia riga Il row span È l'unico Comando che non mi prendeva Comunque vabbè L'ho mandato già a Seba Solo che È stato un casino Perché non mi cancellava Le parti dopo Stavo diventando pazzo Ok Basta L'ho fatto ieri notte Poi mi sono accorto Che non avevo fatto Kanji Stavo rifacendo la lezione Dei vocabolari E mi sono accorto Che avevo assaltato Quella dei kanji Quindi adesso sto recuperando Aten E avanzare Però Aten Per me Aten non è sviluppare Ok Io di solito Aten dico Con lo sviluppo Della tecnologia Di solito Lo traducevo così Devo provarlo Anci io non so Come si comporta Come cal span E rau span Si comportano Se non ci è spazio In tabella Eh lo so Infatti Io glielo ho lasciato Il comando che ho scritto Gli ho chiesto a lui Di dirmi come cacchio È che non funziona Perché il comando L'ho lasciato dentro Allora Ten Quello di tenji kai Che è mostra Per gli amici Mostrare tenji Più kai E posto di incontro Mostra diventa Tenkai E sviluppare Anche Anche se per me Sviluppare Era Aten Però dice Con l'avanzamento Dell'industria Ma è uguale Sempre ten Tenji kai Tenkai Questo qua ogni volta Mi dimentico Che si pronuncia anche kai Lo pronuncio sempre A Perché è quello di apriar E Aten Poi quello anche di Atsubai Scriviamo questa pappardella di roba E via Massi non te l'ho mai chiesto Tu di dove sei? Se me lo vuoi dire Se no E' libero di Lo vuoi scrivere qua Dimmelo in privato Io sono di Milano Milano Allora Lezione 2 2 Lezione Potè io sono di Brescia Ah bene Sei vicino Cacchio E magari quando fanno qualcosa Che vieni a Milano Dimmelo Che ci si vede 2 2 2 2 Kanji N2 Allora Tenji kai Già è per quello che ti ho chiesto del ristorante Ah quello giappo? Eh ma io non lo sapevo che ride la zona Tenji kai Allora Tenji kai Allora Un giorno bloccherò il Duomo Sì infatti in un'oretta posso arrivarci Prenderemo tutta la piazza E ci riuniamo tutti Faremo il Tutti i miei fan 3 3 persone C'è una riunione di gruppo 3 Tenji kai mostra Meglio pochi Ma buoni Tenji kai Poi abbiamo Osso Questo qua è quello di Osso È trasmissione Nama Osso Nama Osso Eh no non si scrive così Nama Osso Com'è che si scrive? Non so più scriverlo Non me lo ricordavo di vero Boh Nama Osso Dove essere live Non mi ricordo più come si scrive Mi sembra che è quello lì il kanji Però non mi ricordo più Devo controllare Comunque quello lì di live Allora Osso Giraia Comunque se hai dubbi E robe varie Chiedi pure Anche su quello Sul giapponese Che ti sto spiegando Se c'è qualcosa Che non vi è chiaro Dimmelo Tanto fermarmi Per me non è un problema Mi dice Rallenta un attimo Che mi sono perso un pezzo E te lo respiro Tenjikai Tanto dovete impararlo voi Non lo sto facendo per me Lo sto facendo per farvelo imparare voi Così ho altre persone con cui posso parlare il giapponese Tenjikai Kaijo Oyobi o meglio Oyobi dovrebbe essere o meglio Oyobi Tenjikai Shuen All'intorno Cioè nel Intorno alla fiera Perché non sono ancora entrati Cioè fuori dalla fiera Al di fuori della fiera Tenjikai Shuen Tranquillo al momento È tutto chiaro Devo solo trovare il tempo Di ripassare Ok L'importante è che è tutto chiaro Ta Da Ima In questo momento Ta Da Ima Ta Ien Poi dice È normale che non potete ricordarvi Tutte le cose a memoria Anch'io non me le ricordavo tutte Impossibile Però mano a mano Più lo usi Più ti ricordi le robe Maiko Maiko sta passando A tirarmi sulla luce Ta Ien Maiko Oyobi Perché cosa sta Me o meglio Ta Ima Ta Ien Konzatsu Konzatsu È Traff... Cioè non traffico È Congestione Affollamento Koda Tipo la boh Dipende da come vi piace Konzatsu Questo qua è quello di Zashi Do la MS O no Buongiorno Buongiorno È una O lì E la H È O Aio Così H Ah Allora Poco Anche haite Posa Ancora Ma è diverso È nuovo Diverso Detto ora che vomita in giro Bene Ah ecco LH Pensavo di averla messa No no vai tranquillo Te l'ho detto La G e manca la O E la H E manca la A davanti Senza Non c'è problema Il concetto c'era Ehm Taien Konzatsu Ste Orimas Ma con Oyobi cos'è che significa Cioè tipo Tenjikai Kaijo Oyobi Tenjikai Shue Anche Anche O 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 Ok No o O meglio Tipo Non C'è Perché qua C'è 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 Traffico C'è C'è Affollamento Più che dentro La fiera Fuori Perché ci sono Quelli che vogliono Fare i biglietti Beh comunque Se era Il senso E' Quello Lì Ste Orimas Ok Allora Osso Tenjikai Sì Non ho bevuto un cazzo Sì dammela qua Perché non ho bevuto niente Ieri Tenjikai Kaijo Oyobi Kaijo Shuen Tadahima Tayen Konzatsu Ste Rimassa Trasmissione Dentro la mostra O anche O meglio Fuori dalla mostra Adesso c'è Molto affollamento New New Joken New Joken Ciao Ma che non me l'hai dato il bacio Hai fatto finta Ciao Fa finta di baciarmi e scappa Vabbè New Joken Che sembra una mossa di Kenshiro Significa biglietto d'entrata New Joken Che sembra una biglietto d'entrata New Joken Ito wa darede mo Jiban Jiban Eh ma ecco Capita New Joken Wo Kai Tome te Tome te Persone che vogliono comprare il biglietto Tome no Sai In caso Vogliate comprare il biglietto Mettete via 90 Ito wa darede mo Wa Terash Kakarinin Che è lo staff Tome no Kakarinin No Shiji Questo qua non lo sapevo Me lo segno Shiji non lo sapevo Shiji è Consiglio Fate quello che vi dicono Sarebbe fate quello che vi dicono Quello che vi dice lo staff Seguite quello che vi dice lo staff Shiji Io me lo scrivo perché Cioè So il significato ma il kanji non lo sapevo Almeno non me lo ricordo Quindi al momento Quindi lo sintonino Nistagatte Onarabi Fate la coda Onarabi Fate la coda Seguendo i consigli Che vi dirà lo staff Narabi Kudasai Ok Shiji Shiji Ok Poi Uno Ten Tenjikai Non c'è solo Ten E Tenjikai 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 Ah è lo stesso di Shiji Che coglione Tenjikai è lo stesso di Shiji Quindi questo qua me lo segno È nuovo Me l'ha segnato il coso Però è nuovo Ecco perché Tenji Tenkai Sviluppare Che per me invece era Tenjikai Mayday Mayday Sviluppare Poi abbiamo Aten E Avanzamento Aten Aten Allora Avanzamonte Così posso fare Usando il coso lì di Seba Posso fare anche il mio sito Magari faccio un sito Per le lezioni di giapponese Dove metto le raccolte Perché è più facile da vedere Siamo cosiddetto solo Giapponese Per principi Cioè per principianti O studia il giapponese Anche tu Con tutte le lezioni Le cose Con la mia foto Nel Cos'era Nella Io quando vado in Giappone Mi metto nel giardino di Mako E compro la piscina da Amazon Tre metri per due La riempio d'acqua E rimango dentro lì Tutta l'estate Vedi un gigante di due metri In una piscina Ingonfiabile Dentro una casa in Giappone Vicino al Monte Fuji Tra pareti Allora Shimesu Vedi che questo kanji qua Me lo insegna adesso Shimesu Vediamo anche cosa significa O G per gli amici La shime o G Che significa Indicare Allora Shimesu Shimesu è mostrare Shimesu Mostrare Però questo Quello lì Ah si è lo stesso kanji Però aspetta Vediamo Vediamo Esposizione Esposizione Se poi mi affitti Qualche metro quadrato Io mi metto lì vicino In una piscina di birra Di birra Esatto Esposizione Esposizione Beh lì Io Quando vado a casa sua C'è praticamente La casa dei suoi Di fianco c'è una casettina piccola Che sarà 10 metri No 10 metri No 20 metri quadrati E io sto lì Con la mia playstation Perché lì Bello che là Ho un televisore Con la playstation E tutto Che sono rimasti lì In giappone Non vorrei andare mica In vacanza Senza giocare alla play Allora Pazzo Shigi Eh vedi che me l'ha detto adesso Questa parola Non la sapevo prima Me la spiegava adesso Shigi è indicare Assolutamente no Quindi seguite le indicazioni Shigi Shigi è indicazione Indicare Indicazione Indicazione Poi abbiamo Yogi Yogi Yamamoto No Non è quello Yogi Yogi è quello di esporre Poi Mawari E intorno Alla fine Era un parole Che non sapevo Perché me le spiega adesso Quindi è tutto Allora Mawari Che si pronuncia Mawa O Shuu Shuu Intorno Mawari 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 E intorno Vicinanza Dipende da Poi Shuen Che è la stessa cosa Circondato Shuen Non lo riesco più a scrivere Lol Shuu E No Lui mette Intorno qua Vabbè Facciamo Qua Nelle vicinanze Qua Intorno Però Ha la stessa Significato Quando dicono Mawari Nelle vicinanze Intorno Che Ginko no Mawari Dovrebbe essere la stessa cosa Shui E circonferenza Questo non lo sapevo Shui 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 Ho parlato a dire circonferenza In giappone Interessante Circonferenza Non lo scrivere in italiano Allora La 4 Non la facciamo Perché sono tanti significati Iniziamo a scrivere Questo qua Allora Shime o G Per gli amici Shimesu E mostrare Se vedete il su Si legge Shimesu Shigi Qua si legge G Ed è Indicazione Indicare Che era il kanji Che non riuscivo a leggere Prima Perché non l'avevo ancora Studiato Io oggi esporre Anche non lo conosco Mawari Shuan Shui Shui No Mawa o Shuu Per gli amici Mawari Se trovate il re di fianco Si legge Mawa Trovate un altro kanji Si legge Shuu Easy Arrebbe stato molto più easy Il giapponese Se un kanji Avesse solo una pronuncia Invece di 1800 Ci sono certi kanji Che hanno tipo 7-8 pronunce Ciao Ciao Allo Bentornato Come va? Bevendo come un cammello Allora Due Shimesu Ben diciamo Bene Siamo contenti Sai che ho saltato troppo lì Ah no Giusto Chime o G Chimesu 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 Ok Abbiamo detto che mostrare Poi abbiamo Shigi Comunque mi sa che Dono l'esame Mi stanno studiando un po' i kanji N5 Perché mi piacciono un sacco E la menata più grossa È ricordarsi le pronunce Eh Quello è il discorso Ieri sera Ieri sera ho provato a fare gli addominali Mi sono alzato E ho sentito crack tutta la colonna vertebrale Tipo Eh no Crack sulla colonna vertebrale Non va bene Ciao Davis Però se hai fatto gli esercizi E senti male È l'acido lattico Dipende da quanto tempo Non stai facendo esercizi Tipo io se faccio un addominale Praticamente rimango piegato Tutta la vita Da 40 anni Che non mi muovo Allora Shigi Indicazione O indicare Poi Yoji Non la sapevo Questa qua Questa qua Proprio non la sapevo Yoji Yamamoto Cioè almeno Cioè non la sapevo Non l'ho mai usata Yoji Anzi no Aspetta Però mi sa che È Yoji Ah no Quello è Yoji Ho il dubbio Hai fatto i piegamenti classici Io so questo Lo confondo Non faccio esercizi Dalle medie È uguale Allora sei messo come me È tutto regolare Infatti anche mia moglie Fa Sono andata a correre E mi fa male tutto Gli ho detto È il problema È che se corri E non ti fa male niente Significa che non hai fatto Cioè non hai fatto nulla Davi stricchi Fa male normale L'acido latico Allora devi iniziare Da quelli più leggeri Parti pian piano Esporre Poi abbiamo Mawari 3 Mawari Magari Magari mi iscrivo in palestra Te lo dico io che sono campione di divano Stile libero Mawari Prima ero bravo anche a farfalla sul divano Adesso sono più bravo a dorso Anche io Alex Allora ci faremo una sfida Quando fanno le olimpiadi Mawari E comunque Tornando ai kanji Massi Io prima facevo fatica Cioè nel senso Anch'io facevo fatica Perché non li conosco Però tipo adesso Questo Mawari Che lo vedo Lo so già scrivere Ma non perché lo sapevo Questo Perché so scrivere Settimana Due settimana Se vedi Shu Ha questo simbolo qui Che è questo Scritto piccolo dentro E quello che tento di fare io Praticamente quando scrivo Tento sempre di ricordarmi Se c'è qua un kanji simile O un occhio Che ha lo stesso simbolo dentro È un allenamento E nonostante tutto Ho vinto una medaglia Del Koni Per il torneo scolastico Di basket Bravo Sei mai stato a Hokkaido Yes Ci abita anche un mio amico Però il posto dove sono stato di più Era il paese di mia moglie Cioè il paese di mia moglie Chi si chiama A Yamanashi Dove c'è il monte Fuji Cioè lì a un metro il monte Fuji Come mezz'ora Sei sul monte Fuji È presente quando vedi Mazinga Z Dietro c'è il monte Fuji Dietro il laboratorio È così È così Casa Su Però ho cercato Mazinga Z E non l'ho trovato Ma lo troverò la prossima volta Io non l'ho trovato Mawari Poi vicinanza 2N dintorni Ma che what? Ma che what? E poi di fianco A casa di mia moglie C'è il paese di Heidi Praticamente è un posto pieno di fiori E robe varie L'hanno chiamato il paese di Heidi Chi è Kid Muscle? Chi è Kid Muscle? Chi è Kid Muscle? Non lo conosco Stai parlando di cose troppo nuove Cos'è Kid Muscle? Shuen Shuen intorno Aspetta ti trovo il nome giapponese Eh Kin Nikuman Vabbè Forse è Kin Nikuman Kin Nikuman lo conosco Dalla finestra ho visto una signora con L ombrello aperto Anche se ci è il sole Beh ma dipende perché l'ombrello Anche in Giappone lo usano per non abbronzarsi Shui Non lo usano per il sole Cioè c'è l'ombrello per il sole Shui è circonferenza Questo non lo sapevo Circonferenza Kinikuman Kisei Cose da donne Cose da donne Esatto No perché in Giappone dicono che prendere il sole fa male alla pelle Quindi loro usano l'ombrello Allora Magiru è mischiare Che è quello di Konzatsu dovrebbe essersi Ok Quattro Magiru Ok che è quello di Konzatsu Si pronuncia questo qua a mille pronunce Si pronuncia ma Con Però poi c'è a mille tipi di cose Significa mixare Mix Io ho saputo che nella Corea del Sud avere la pelle bianca è un simbolo di bellezza tipo Eh si ma anche in Giappone è la stessa cosa Più è la pelle bianca più hai la pelle giù Perché vedo Cioè più che la pelle bianca è che non ti vengono le rughe Lo fanno per quello Le giapponesi eh In generale Ga è Magiru Fa sempre il solito transitivo e intransitivo Magiru Come nel Settecento Esatto come nel Settecento Magiru Infatti basta che a Mako gli vendete una crema e gli dite fa bene alla pelle la compra Lei trippo quando guardiamo la televisione mi dice guarda che bella pelle che ha Ma chi cazzo guarda la pelle dei personaggi Cioè delle persone mentre fanno le altre Il Mako guarda la pelle delle persone A me dai Magiru A che con le televendite Essere mischiato Mixato o mischiato Mixed e mixato no? In Italia non si dice mix Mixato Mescolato Mischiato 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 Mischuglio Guarda Mako ho un bel dentifricio che sbianca anche la pelle E lei se lo mette su Tranquillo Aiutate Magiru è mescolato? Sì mescolato Mischiato Per me è mischiato Meschiato o mescolato Quello che vi piace di più Mazzaru Gamma Mazzaru Mixed Mixed Ho capito però in italiano mixed come si dice Questo è un altro modo per dire mescolato Mazzaru Mischiato credo Mischiato credo Mischiato infatti Ho mescolato o mischiato Come l'hai detto tu Ok No pensavo di aver sbagliato Mizzato non credo si possa dire in italiano dato che anche gli italiani dicono mixato Sì io quello sì perché siamo Mescolato mi sa più di mescolare il caffè Magari uno Cioè il problema è che sto spiegando già il giapponese Se poi devo mettermi anche a dire l'inglese siamo messi bene Mazzaru Io mi ricordo ancora quando giocavo quando lavoravo da Prada e c'erano quelli che non sapevano l'inglese tipo arrivava la cliente gli chiedeva le cose e loro gli dicevano in inglese Wait a second I go in the magazine O sennò gli diceva vorrei vedere le cose in vetrina e loro gli dicevano Wait a second I go in No non I go in the windows Come è che diceva? Grande professionalità Comunque dicevano tipo entro dentro la vetrina al posto di dire vado a vedere cosa c'è in vetrina Una cosa del genere Beh il magazine è top Tutti lo sbagliano Cioè praticamente il 90% dei commessi dicono magazine al posto di stockroom I go in the magazine Nella rivista ci sarà qualcosa di buono Esatto Ti ha detto vetrine No no non vetrina Proprio diceva Tipo I go in the window Una cosa del genere al posto di dire vado a vedere cosa c'è in vetrina Cioè cose terribili E poi se li correggevi si offendevano Ah ciao E uno di questi geni qua era anche il direttore Quindi vedete voi Maseru è mescolare Cioè io mescolo sarebbe Praticamente questo qua è il famoso transitivo e intransitivo Questo è mischiato in generale In gen E questo qua lo mischio io perché sono io Mischiare con il Mischiare io mettiamo così Transitivo e intransitivo Qua il soggetto c'è Qua in generale Qua invece c'è il soggetto Poi con Zazu che è affollamento O com'è che si dice Affollato o pieno di gente Uè Seba Ah no ma ha scritto Bravo ottimo lavoro Su H U titolo A La chiusa è B Altrimenti ti lascia tutto in grassetto Ciao Ma Seba Guardami Dimmi Ciao Guardami con la roba lì Del Del Cro Del Cro Span Cioè del Ro Span Non me la fa Avevo messo tre righe Io mi immagino che li ferma la polizia E gli chiede tipo tutto regolare E loro rispondono Vado a vedere in magazzino Seba Con Zazu cosa significa Crowed in inglese Con Zazu Per me è affollato Con Zazu C'è un casino Andiamo a vedere Crow Crowed Affollato Pino Z Poi abbiamo l'ultimo È Congo 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 Quello l'abbiamo già fatto No C'è che stasera Congo Ieri notte Marco mi prendeva per pazzo Che parlavo da solo Mentre facevo l'esercizio Non me lo scrive Congo Congo non lo so Congo Congo Questo non lo so Aspetta che cerco Congo Che non l'ho mai sentito Miscela Mescola Assimilare Mischiare Mescolare Sempre mischiare Congo Solo Miscelare Alex ma chiedi a Giorgio Se ha bisogno di un po' di giapponesità Chi è Giorgio scusa Chi è Giorgio Davis È l'ultima volta che sei stato in Giappone Armani Ah Giorgio Armani Giorgio Armani vuole qualcos'altro da me Se gli parli L'ultima volta che sei stato in Giappone È cinque anni fa Perché da quando sono andato a Hong Kong E l'aereo è atterrato in mezzo a due palazzi Stavo per morire Non ho più voglia di andare sull'aereo Poi soprattutto per il fatto che ormai Tanto trovi tutte le cose Vado in Giappone O vado in Italia O vai a Tokyo O vai nel paese più sperduto Costa tutto uguale Quindi non ha più senso Ormai compro tutto su internet Quelle cose che vuoi Quando non c'era internet Andavo Mi piaceva girare Perché trovavo i negozi Con prezzi diversi E robe varie Adesso ormai è tutto standardizzato Tutto uguale E monotono Cioè poi per me ormai Andare in Giappone È diventato come andare a Pinarella di Cervia Intanto la prossima volta Facciamo il viaggio Jojo Style Tutti messi in posa Con la posa Beh Adesso comunque Mako sta decidendo Se andiamo in Giappone A vivere o no Perché adesso La licenzia Una fine mese Quindi poi Adesso sta decidendo Se vuole vivere qui O lì In base Se vuole andare là O qua A me non cambia niente Tanto io Sempre in casa Cioè nel senso Non che non faccio niente Però mi metterò a fare traduzioni E robe varie O vado a fare Il Sopland Maschile Eh la cattai Tagliano anche da lei Eh tagliano ovunque ormai No ma lei Chiude proprio il negozio Da me invece Hanno tagliato qui Tagliato lì Hanno il negozio aperto Giusto per dire Siamo aperti Sperando che le cose Ripartano Ma Fai conto che Non ti dico la cifra Ma hanno guadagnato In tre mesi Meno di uno stipendio In un mese Che sono di là Non me ne frega niente L'importante è che Non vado lì A fare lo schiavo Anche io sto bene Cioè per Alla fine qua Ho pagato Cioè questa qua È casa mia Ho finito di pagare Il mutuo e tutto Non vado in Giappone Se avevo vent'anni È un discorso Vado a Tokyo Parto da zero Non ho problemi Ma visto che ho 45 anni Non ho intenzione Di andare a Tokyo Per alzarmi alle 5 E poi Ciao Mikota E lavorare come un nigger Ciao Eh ma così Mi hai cambiato La Devi avere lo Ah devo avere Lo spazio vuoto Ok 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 Io non avevo Lo spazio vuoto Ecco perché Non me lo apprendevo Allora 5 Motomeru Se non hai spazio Sotto non te lo mette Eh infatti Non me lo metteva Ho detto Boh la formula è giusta Pensavo Scusate Stavo parlando con Seba Che lo vedevo Che mi scriveva i messaggi L'ho fatto Dicevo Pensavo che me lo metteva Lui lo spazio Se io mettevo Romi Mi metteva lo spazio Avevo capito così Motò O Q Che significa Che cazzo significa SIC Per me Se desideri No Ma va Alex Te sei già top influencer Ma va Alex Te sei già Un top influencer SIC Andiamo a casa dei miei Che dici Vabbè vai a casa dei suoi Non paghi niente Sì Però finché ci vai in vacanza Tre settimane È un discorso Se vado a vivere lì Tutta la vita Suo papà è normale Che dopo un po' mi dice Casa mia Fai quello che ti dico io Uno Due Sono andato via di casa A 18 anni Per non vivere con i miei Non vado a vivere Con i genitori Dei mia moglie A 45 anni È fuori di testa Poi è normale Che loro dicono No no Non è un problema Fai quello che vuoi Adesso Ma poi quando mi hanno lì Tutto il giorno A rompergli i coglioni È normale che Cioè quindi Il mio scopo è Prendiamo anche una casa Anche a 100 metri Da dove abitano loro Però è casa mia Dove c'è un muro Una porta Che io la chiudo E non mi rompono i maroni E Mako va Praticamente casa sua È grande Fanno una parte della casa La trasformano Nel suo laboratorio Lei fa i cappelli Le cose che vuole fare lì Anche io sono andato A viserci Si alza la mattina Va a casa dei suoi E la sera torna a casa Io sono tutto il tempo A casa A fare altro Eh ma è così Nel senso Io a 19 Il problema è che Non Cioè non voglio Cioè È giusto Magari per il primo mese Posso dire Vado lì alla cacchio Sto a casa sua E poi vediamo Infatti gli ho detto a Mako Prendi Vai in Giappone Vai in Giappone Tre mesi Sei mesi Prova Perché lei non ha mai Lavorato in Giappone Quello è il problema E non ha mai lavorato Con i giapponesi Io sì E quindi li conosco Vedi se ti trovi bene Se sei bene Se sei contento Una volta che sei contento Se sei bene Poi andiamo Però non mi va di buttare Cioè io praticamente Ho lavorato 25 anni Cioè ho finito di pagare la casa E tutto Adesso che sono tranquillo qua Tu mi stai dicendo Prendiamo e partiamo E andiamo via Che mi può andare bene Ma non vado a fare lo schiavo Cioè A me basta Vivere Cioè Guadagnare il giusto Cioè io ho pagato la casa E ho i soldi da parte Io potrei stare a casa Tranquillamente 15 anni Senza fare niente Però è normale Che Adesso studio giapponese E mi metto a fare Non lo so Traduzione di Manga erotici E robe varie Che tutto Ah Gli ame te Gli ame te E ho finito di fare la traduzione In 5 minuti Tanto Quelle parole sono bravo Te le traduco subito Poi quando avevo tradotto Tipo i fumetti Quando ti Quando tu traduci i fumetti Ti pagano a pagina Però è tipo Becchi la pagina Che è completamente scritta E poi becchi la pagina Dove non c'è scritto niente Cioè dove c'è solo un suono Quindi te la pagano uguale Però magari ti becchi una pagina Dove ti fanno riassunto Delle puntate Dei precedenti E perdi tre giorni Solo per fare quella Comunque mi trovo Per fare le traduzioni Mi trovo meglio Col parlato Cioè se io guardo un film Faccio meno fatica Che a vederle scritte Perché sono Cioè ho Sono più bravo Nel parlato Per quello sto studiando Per quello sto studiando lo scritto Perché l'avevo perso un po' Vabbè comunque Motocchio Motomeru sic Cos'è per me Motomeru è volere Qualche cosa è cercare Mi è venuto fuori Motomeru Richiesta Si Gli occhi Gli occhi richiesta Sic cosa significa in inglese Motomeru Sic Motomeru Motomeru Malato A me piacerebbe fare qualche settimana No non si Si che con le due A me piacerebbe fare qualche settimana All'altra di smart working In Giappone Quello è un discorso Allora Una cosa è lavorare lì ogni tanto Una cosa è andare in vacanza E un'altra cosa è lavorare in Giappone Si E cercare Cercare Perché qua Qua l'esempio dice Tipo qua Dove cacchio è New New Joken Ok Motome No Saiwa In caso Qua è cercate di comprare il biglietto Sarebbe In caso volete comprare il biglietto Mettiamo cercare Mettiamo cercare E poi Gli occhi E richiesta Quello lì sarebbe Vorrete comprare In quel caso Però Gli occhi Tipo io Si Distruì Beh comunque Se vado in Giappone Venite su Potete venire tranquillamente Gli occhi Gli occhi Io ci proverei Comunque a vivere Gli occhi E dovrebbe essere Lo stesso di Hizuyo Intanto studio Il giapponese Esatto Intanto ho studiato il giapponese Vedi che L'esercizio che faccio io Massi Vedi tipo Ho scritto questa parola Però mi ricordo Che con questo kanji Si scrive anche questa Bisogna fare Quell'esercizio alimentare Non Come diceva Dani Vuoi fare il figo Non è che voglio fare il figo Me lo faccio io mentalmente Magari sbaglio Io a dicembre Per una settimana Dovrei andarci E io adesso Vediamo Marco Cosa vuole fare Magari lei Fino a ottobre Novembre Penso che vada su Poi vediamo Lei così decide Di fare Gli ho già detto che Trova casa La prima cosa Che deve chiedere A me non interessa C'è il letto È pulita L'unica cosa Che deve chiedere È che connessione Internet avete Perché se non c'è La connessione Internet veloce Non ci va Già deciso Può essere anche Una villa Che non me ne frega Un cacchio Allora A te piacerebbe fare Lo youtuber Tipo Tommaso In Giappone O Marco Togni Non so chi siano Quindi non lo so A parte che sono già Uno youtuber Però non mi caga nessuno Sei Kiwa Non so chi sono Non li conosco Esatto Kiwa o Sai Sai è occasione Perché mi mette occasione Da solo dice Che è occasione Questo kanji qua Per me è quando Noi l'avevamo studiato Come quando Ci devo fare il video Come loro Eh ma io non Ripeto Non sapendo chi sono Non posso dirti Sì o no Occasione Faccio il mio video Mentre sono sdraiato In piscina In Vediamo se ce ne ho una C'è una foto Te la faccio vedere Ok Io sdraiato in piscina Mentre faccio In Giappone Che è uguale Mia vita in Giappone Aspetta io non lo vedo Che non ho foto Forse nel cellulare Come spezzarsi Una gamba Vediamo se nel mio cellulare Trovo una foto Nel Giappone Anche se dubito Ce li aveva Marco Poi sono vecchie Apri cartella E non ho aperto Una fava Bene TMI Io ho trovato la mia foto Di quando avevo 15 anni LOL Praticamente solo foto Del mio gatto Solo foto del gatto E' in piscina Eh si perché ho tolto Il cosa Ho tolto il Se faccio così Lo rivedete Stavo cercando una foto Però mi sa che qua Con tutte le foto Ti faccio vedere Ah ecco guarda Ti faccio vedere Il mio amico Che cucina No dentro Ho trovato la foto Del Giappone No Guarda Guarda io Che sushi mangio Voglio vedere Se capite Che sushi è Questo è il ristorante Del mio amico Guarda che sushi mi fa Perché lui mi conosce Vediamo chi capisce Che sushi è questo Esatto Perché io non mangio Il pesce Anguilla No no È la carne Io non mangio il pesce Lui mi fa Con il Con la carne di cove Mi fa il sushi No lo sto a nulla Nulla Spacca tutto Non salvare Fermati Fermati Se no Non lo concede Vi faccio vedere C'è solo la mia foto Questa è il Maco Un mille anni fa Però se ve la faccio vedere Si offende Questa è la mia foto Di quando avevo 15 anni Lo chiamavano Belli capelli Qua mi hanno In ospedale Strano Un'altra volta in ospedale Finisco sempre in ospedale Questa invece Siamo io e Maco Quando ci siamo conosciuti Maco aveva I capelli arancioni Basta Così adesso mi conoscete Anche in faccia Peccato che non ci è Daniele No ma Daniele L'ha già vista La mia foto Lui sa come sono fatto Ti avrebbe detto pelato E che strontato Dice che sono pelato lo stesso Sono uguale Ho leggermente L'attaccatura più alta Ma sono uguale Volevo vedere Se avevo una foto Del Giappone Ma non la trovo Aspetta La cerco flash Se la trovo bene Se no andiamo avanti Se no diventiamo pazzi Magari io ho il backup Del computer di Maco Adesso esplode il pc Infatti sta Sta crashando tutto Mi apre più l'hard disk Maco telefono Ah si qua ci sono Le foto del Giappone Aspetta Mille anni fa No qua Maco è andata da sola In Giappone Mille diciassette Troppo nuova Anche io Ho L Attaccatura alta Io praticamente Sono pettinato Come Lupin Per farci capire Cioè sono Come mi avete visto Nella foto Non trovo più No niente C'ho tutte le foto Del mondo Tranne quelle Del Giappone Riccione Però ho i capelli lunghi Beh bene Io no Da quando ho fatto Il militare Gli ho tagliati E non gli ho più Fatti cresci E altro perché Lavoravo E nei posti Cioè tipo da Prada Robe varie All'inizio Dovevi avere la barba fatta Dovevi avere i capelli In un certo modo Eccetera eccetera Adesso puoi andare Anche con la barba Al lavoro Prima non si poteva No Sono foto del Giappone Ma quelle di Maco Quelle io Da cinque anni Che non vado Quindi non so Se non finisco più Sai che occasione O quando Si usa anche per dire Quando Questa parola qua Ti stai pelando Mastabe Io l'attaccatura Non ce l'ho più Allora Sì ma io Ho tutto storto Tipo Lupin Hai presente Lupin Quando cambia Dal Come si chiama Dalla prima La seconda serie Che gli cambiano La pettinatura Così Ho più barba Che capelli Ho più barba Che capelli Abbastanza lunghi Sono giovane Che poi Comunque È il bello Che stiamo parlando Di capelli Ma l'unico Fissato Con i capelli È Dani Che infatti Gli ho detto Ma smetti Di scrivere Quelle cose Magari Uno si offende A me Non frega Niente Lui mi dice Pelato Ma io non so Ma stavi Mastabe Ok Padre Pio Padre Pio Sette Allora No Sette Che Otto Sei Mi state Facendo Allora Kokusai Tekin È internazionale Saini Saini È quando Sto morendo Dal caldo Kokusai Tekin È internazionale Kokusai Tekin È internazionalmente Kokusai Tekin Internazionale Anzi Sarebbe internazionalmente Però Un po' Troppo Allora Poi abbiamo Kokusai Kokusai Suru To Kokusai Suru Cosplayer 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 Cosai Suru È associare Associare con Comunque è normale Perdere i capelli Quello è l'età Io invece ho deciso Che quando li perderò Mi faccio crescere Solo i capelli Ai lati E mi faccio La pettinatura Da giapponese Quella con Lo stronzetto In fronte Cioè Sulla testa Però devi avere I capelli Veramente lunghi Per fare quella roba lì Tipo quella dei samurai Che hanno Vedete che hanno Un coso in testa Quella lì Lo devi fare Con i capelli Veramente lunghi Però Devi farli crescere Tipo almeno Dieci anni Vai che io Non so se Avete visto La foto Dell'altra volta Che vado in centro A Milano A lavorare Vestito col kimono Quello Quello estivo Io mi faccio Nessuno Io mi vesto Da giapponese A Milano Quindi vedete voi Intanto la gente Non capisce niente Mi dicono Ah ma che bel Completino In lino Mi dicono Cosai Suru È associato Con Associato Con Vediamo se c'è Un altro significato Cosai Ancora Ancora mia moglie La vedono Gli dicono Che è cinese Quindi da De anni Che ormai Abita Società Interco Associazione Associare Vai a trovare Il tuo amico Cuoco Eh ma no È venuto a casa mia Cioè lui viene a casa mia È venuto due settimane fa Allora Associare Ok Comunque almeno per me si capisce se uno è cinese o giapponese I tratti sono diversi No il trucco è questo Seba non l'avete ancora capito Soprattutto nelle ragazze hanno i baffi sono cinesi Hanno le gambe storte sono giapponesi Non puoi sbagliare Sarà una giapponese con le gambe dritte su centomila Chidati Invece le cinesi hanno le gambe dritte Peccato che sono pelose Anche la faccia No Della faccia ti puoi confondere Perché ormai ci sono un sacco di mix anche in Giappone Camminano storto No Non è che camminano Allora praticamente da piccole si siedono sulle gambe Perché siedono sul tatami per terra E quindi gli si stortano le gambe Invece adesso ci sono un po' di giapponesi Che iniziano al posto di star seduti per terra Usano le sedie, i divani e robe varie Ma Cioè loro praticamente già da piccoli si siedono per terra E quindi hanno tutte le gambe storte per quel motivo E insistono ancora a stare con Oh ma io non ho scritto una fava Niente devo scrivere tutta sta roba qua Bene Ho andato avanti qua Cioè nel senso ho scritto qua ma non ho scritto sul quaderno Allora Motomeru Cercare Gli occhi non ho neanche scritto cos'è perché sono avanti Gli occhi cos'era? È richiesta Gli arriva Poi abbiamo sai che è quando Kiwa scusa ma non me l'ha messo Mi ha messo il kiwa ma non mi ha messo che cacchio significa Che non mi ha messo l'esempio Poi chiediamo a manco un esempio di kiwa Kokusai techi è nazionale sarebbe internazionale E questa qua è tipo scambio associato con essere associato Cosai Me lo confonderò con kokusai sicuro Ok scriviamo queste parole di nuovo Ai 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 alla vecchiaia Poi ripeto se Se avessi vent'anni Mia moglie diceva andiamo in Giappone Prende vado in Giappone anche adesso Però con l'idea che ho Vent'anni e voglio avere un futuro in Giappone Adesso c'è il futuro Sì lo voglio avere in Giappone Ma non voglio fare lo schiavo Cioè mi basta lavorare il giusto Per guadagnare il giusto per vivere Tanto cioè i soldi da parte ce li ho Però non voglio andare a fare lo schiavo in Giappone Cioè quello è il discorso Ma è con Dignitosamente Esatto A me basta pagare luce, gas Cioè tipo adesso qua a casa Basta che pago luce, gas, telefono Cioè internet e mangiare Sono a posto Non è che voglio lo stipendio Da 10.000 euro Tanto non so neanche dove cazzo spenderli Cioè li accumulo solo in banca e basta Ma è con Gia ma giro È normale Se mi offrono un lavoro dove guadagno tanto Lo faccio volentieri Però non lo sto andando a cercare E non mi interessa Dopo la casa qui la affitti Eh quello che sto pensando Cioè o la do dentro Come è che si chiama Adesso si usa tanto quelli lì Come è che si chiamano Non in break and bad fast Come cazzo si chiamano Quelli che la dai all'agenzia E loro te la Ti fanno andare la gente B&B Sì tipo B&B È un nostro vicino Che fa B&B Mi fa me la dai a me Te la gestisco io E tu mi dici Che quando vuoi tornare a casa Te la tengo Cioè lui segna come sei occupata E io torno quando voglio Però A me gira il cazzo Che un altro deve vivere In casa mia Dove ho sputato i soldi Per Però Vediamo Per quello ho detto Amaco Prima prova Se poi sei sicura Che vuoi andare in Giappone Se non vai in Giappone Muori eccetera eccetera Va bene Se è solo una voglia Di vedere i tuoi genitori Vai lì sei mesi Sette mesi Otto mesi E poi torni E dipende lei Cosa vuole fare Perché comunque La vita in Giappone Costa di più È vero che Qua Non c'è Non c'è sbocco Perché ormai Con quello che sta succedendo Perché anche adesso Con la situazione Questa qua Che Non c'è lavoro Se ne approfittano Perché ti dicono Se ti va bene Ti paghiamo un cacchio Perché se non ti va bene Tanto c'è altra gente Che sta cercando lavoro Fanno quel discorso lì Le aziende adesso Quindi piuttosto di essere sfruttato Preferisco stare a casa Mischiato in generale No è questo Mischiato Mischiato Sì è dappertutto così Cioè a me di farmi Perché poi le aziende Se ne approfittano Ma se vuoi è così Se no ti attacchi E mi attacqua Cioè prendi un altro cretino Io non vengo lì A farmi sfruttare Cioè O comunque Io Vabbè il mio stipendio Era alto Perché comunque Ero responsabile Di un negozio E lavoravo in showroom Non vado a lavorare Per metà del mio stipendio Cioè Non c'è Sono livello Io praticamente Nel mio settore Sono livello 1 O cambio totalmente Cose che faccio Nel senso Lavoro è importante Ma la mia famiglia La mia vita È più importante Comunque sono cose Che impari Lavorando E crescendo E poi soprattutto Io mi sono tolto i debiti Quindi non vivo con Sì sindacati Ma I sindacati Sono tutti d'accordo Con quelli lì Sì d'accordo Entriamo in politica Che non c'entra niente Abbiamo perso tutto I sindacati I sindacati Pensa che Allora Io quando sono andato Via dalla mia azienda Loro mi hanno dato Tot mesi Non ti dico quanto Perché non è corretto E quello del sindacato Invece di stare Dalla mia parte Gli ha detto Ah ma sapete Che potevate Dagli anche la metà Di quello che gli avete dato Ma se sarai uno stronzo Cioè invece di aiutare me Andavo ad aiutare l'azienda Per farmi dare di meno Vedete che i sindacati Come sono Che erano messi Che poi Quando succedono Quelle cose lì Devono essere presenti Per far sembrare Che ti aiutano E invece praticamente Fanno i loro interessi E basta Da licenziarli Tutti guarda Esatto Con zazzo Affollato Questo lo so Maserù Mischiare Ok E miscelare Non lo sa Miscelare Non lo sapevo Congo Congo Comunque vabbè Ci sono persone brave Persone stronze Però fai conto Che l'80% Sono stronzi Quindi Se vado in un posto Vado per quello Che merito Per essere sfruttato Faccio andare agli altri A lavorare Molto volentieri Miscelare Cinque Moto Poi vabbè Prima io Avevo il vantaggio Che parlando Il giapponese Essendoci anche Tanti giapponesi In Italia Che venivano a fare Turisti E robe varie Cioè praticamente Trovo lavoro Subito Adesso sono Diminuiti tantissimo Anzi Non vengono Praticamente più A Milano Perché manco C'è l'aereo Della GEL Che fa scalo Fa scalo O a Roma O a Parigi Quindi Però ci sono ancora Giapponesi A Milano Cioè se voglio Lo trovo lavoro Però non mi va più Di lavorare Nella moda Anche perché Nella moda Ho fatto 24-25 anni Alla fine È sempre la stessa Tiritera Quindi ciao Vieni qua che fai Il chiosco di piade giapponesi Vieni qua che fai Il chiosco di piade giapponesi Il chioschetto Al massimo Vi faccio l'hudo Quelle robe lì Vi faccio il tacco Iachi In mezzo alla strada Motomero Anche Cioè tipo Il papà di Mako Ha Tipo Ha praticamente Tutte le montagne Che sono In quella zona lì Sono sue Lui è tipo Il sindaco del paese E robe varie Cioè io potrei andare lì E fare il contadino E vivere allegramente Ma non mi va Di fare il contadino Poi se mi gira il culo Farò quello Tanto mangio Mangio direttamente Da lì Il riso ce l'ho I pomodori ce l'ho E sono a posto Mangio il riso E pomodori Tutti io Esatto Esatto Però di alzare Miele qua Lui si alza alle 4 Sei fuori di testa Io non ce la farò mai Se mi vuole adottare Vado io Cercare Eh ma adesso Lui ha quell'età lì Che lo vuole fare Mi vuole fare imparare a me Ma lui anche dice Che non è che lo devo fare io Capito Lui mi fa vedere Come si fanno le cose E poi io prendo qualcuno Che lo fa Io guardo Io praticamente gestisco Lo fa un'altra persona Non è che lo devo fare io Per forza Però vediamo Di strade aperte Ne ho tante Adesso vediamo Cioè quella che sto La prima Lui l'hai trovato Con i suoi genitori Eh bene Cioè Cioè in generale Bene All'inizio Suo papà Non mi si inculava Perché ero straniero Poi siamo andati Al ristorante A bere L'ho devastato Lui era ribaltato Io ero ancora in piedi Ho vinto io Quindi da quel giorno Siamo amici E E invece con sua mamma Non litigo La prendo sempre per il culo Per me sono amici Più che i suoi genitori Allora Yokyu è richiesta Motomeru è cercare Guardate che intanto Devo anche Fare la lezione Kiwa Sei Kiwa Non lo scopriremo Cosa significa Perché non me l'ha tradotto Anzi lo cerco io Kiwa Che cazzo significa Qualcosa Non mi funziona il mouse Wa Ecco esatto Lo scrive basta Cioè da solo Si pronuncia Kiwa Significa Occasione Kiwa è occasione Quindi facciamo così Poi l'avevo scritto di fianco Coppia Incolla Se da solo Si pronuncia Kiwa Se ci trovate Ni E sai Ti chiamava Ti chiamava Gaijin No E' offensivo Gaijin Ragazzi E' Gai 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 Gokujin La parola Corretta Gaijin È offensivo Perché Gaijin Significa solo La persona Di fuori Che significa Che non fai parte Che non sei una persona Ti stanno dicendo Meno male Però all'inizio Praticamente Tutto il mondo È paese Io e lei Non abbiamo mai litigato Al massimo Vai affanculo tu No Vai affanculo tu E finisce lì Dopo tre secondi Stiamo ancora ridendo Cioè Mi diceva Stai con me Solo perché sono giapponesi E ho detto No Hai capito un cazzo Guarda che quelli giapponesi Ci sono già stati mille volte No Perché all'epoca Avevo una ragazza in Giappone Che aveva gli occhi rossi E i capelli rossi Non mi ricordo più manco Come si chiama Anzi Domani Cerco le lettere E gli scrivo Perché poverina Questa qua Era all'inizio Quando parlavo Avevo appena iniziato A parlare giapponese E l'avevo conosciuta Che avevo la maglietta Di Astro Boy Che praticamente Quando ti giri Si vede l'interno del robot L'avevo conosciuta A una fiera degli anime In Giappone L'era vestita da vampiro Vedite Eccezionale Kiwa Poi Saini I capelli Vabbè ma gli occhi rossi È un pochino strano Sì no Aveva le lenti a contatto Aveva le lenti a contatto Solo che il problema È che non se le toglieva Quando uscivamo Se le teneva sempre su E quella famosa ragazza Che vi dicevo Che io avevo fame Gli dicevo McDonald McDonald E loro mi dicevano McDonald Poi li ho portati lì davanti E mi fanno Ah Macu Donaldo Erano loro Saini Quando il Giappone Era ancora bello Saini Mako Ronaldo Mako Ronaldo Esatto Saini E quando Kokusai Teki Koku Koku Nazione Ripeto Il Giappone a me piace Però la gente Non capisce Che andare in vacanze È una cosa E lavorare un'altra C'è tipo un altro mio amico Che lui non parla C'è amico per noi dire Uno che conosco Che vedevamo sempre Nel negozio di Videogiochi Avarese Lui ha preso Ed è andato in Giappone A vivere Che non sa niente Cioè non sa il giapponese Non sa niente Lì che vive in Giappone E Si è andato Nei ristoranti italiani L'hanno preso A fare il cameriere Nel ristorante italiano E finisce lì Ha fatto tipo Il lavapiatti E cose varie E lui è tranquillo E contento di vivere lì E stare lì E sta lì Però adesso Si è trovato la ragazza Più brutta del Giappone Ed è contento L'importante è che è contento lui Cioè però Sono scelte Hai capito? Lui ha detto tipo In Italia Non voglio stare Mi piace il Giappone Eccetera eccetera Vado lì E sto lì E preso E' andato Certo poi Ognuno valuta Sì sì Devi farle Devi valutare tu Magari qua in Italia Non è niente Non è niente da perdere Prendi e vai Cioè io quando ero giovane Fai conto che La prima volta Che sono andato in Giappone Avevo forse 16-17 anni Non mi ricordo neanche Nei sale 17 O no 16 anni Non sono Internazionale Ok Andiamo anzi E quando sono andato La prima volta Parlavo solo in inglese Naturalmente Nessuno parlava in inglese E non c'era una scritta in inglese Nessuna parte Quindi se avevi fame Dovevi imparare a parlare Se no morivi di fame Alex ma c'è il fascino dell'italiano? No c'era il fascino dell'italiano Allora se vai Adesso se vai a Tokyo Osaka Kyoto Ci sono così tanti stranieri Che sei normale Quindi non ti considerano neanche Se vuoi avere il fascino Diciamo non dell'italiano Ma dello straniero Devi andare Nei paesini O nelle zone Dove non vendono mai Gli stranieri Tipo io Quando cammino Nella strada Del paese Di Mako Tutti quelli che vanno in macchina Si girano E mi guardano Cioè tutti Anche perché vedi Uno alto due metri Che cammina in mezzo Alla strada Vestito da giapponese Però è straniero Manco i giapponesi Si vestono come Mi vesto Angel Po Sembra uscito Da un film vecchio Sette Allora Sette Abbiamo Midareru Questo non lo so Ah Rambo Essere violento Vedete Rambo Significa essere violento Voi non lo sapevate Che Rambo È violento Rambo Ram Allora Si dice Mida 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 O Ram Che significa Confusione Ma coincidenza Oppure è fatto apposta Che senso Penso che Sia una coincidenza Se potessero Gli americani Sapevano che Rambo Significa essere Violento Penso che sia una coincidenza Midareru Midareru E Midassu Questi non me li ha scritti Perché è stronzo Midassu Dovrebbe essere Midassu Il paesino L'equino miglia È sempre confondere 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 No non è Come si fa Il verbo di confusione Cioè fare confusione Esiste? Essere confuso No confondere No confondere Dovrebbe essere Midareru Adesso lo cerco Midareru Dovrebbe essere confondere Se non dico La stronzata Il libro non me lo mette Me lo scrive Ma non me lo mette Da Da Re Ru Comunque il solito Transitivo Intransitivo Io confondo E tu confondo Questo è io E quello in generale Pro del naso Questo qua invece È proprio Rambo Rambo Essere violento Quelli che picchiano Le mogli In Giappone Si dicono Rambo Su Che infatti Ogni tanto Sentite che mia moglie Dice Mi fa Rambo Invece Non faccio Essere violento No Cioè sarebbe Violento e basta Però Rambo Su Essere violento O fare il violento Rambona È Aggettivo Violento Se aggiungete Aggettivo Rambo Na Su del naso C'è il peli del gatto Nel naso Rambona Non c'è L'aggettivo Violenza No Com'è che si fa Violenza Non c'è L'aggettivo Comunque è un aggettivo Violenza Boh Violenza è l'aggettivo Non lo so Alex è un mazinga Z al massimo Io sono mazinga Violento Violento è aggettivo No Mi fido di lei Mazinga Z è mio papà Anzi no Mio papà è Capitanaro Mazinga Z è mio fratello Allora Conran è essere confuso Conran Suru è quando Conran Essere confuso Tipo quando ti drogano nei film Conran Suru Essere confuso Volevo cercare questa qua Mi dare Un secondo Per capire se confondere Dovrebbe essere giusto Però Per sicurezza Siamo qua a studiare Cerchiamo Anche perché il libro Non me lo scrive neanche Essere confuso Mi dice essere confuso Si confonde No però aspetta Essere confuso E confondere È la stessa cosa Sai che non so l'italiano? Fran Mida Non ho scritto neanche Mida No E qual è Allora spiegatemi Quelle Confondere Però scusa Confuso Avere confusione Essere confuso Così confuso da colpirsi da solo Essere confuso Sì o essere confuso È conf Allora confondere È però confondere Confondersi No questo qua è confondere Generale Confondere questo è generale Questo qua invece È confondersi Midas Ok Mayday Mayday Cioè peli del gatto Sul microfono Che mi prudono la faccia Perché lui viene qua E si gratta La faccia sul microfono Grazie Tora Tu sì che mi vuoi bene Mica Maco Mi dà su Confondersi Rambo È essere Violento Rambona È violento In generale Questo mese Vorrei provare Il ristorante Del tuo amico Ecco Se vai dimmelo Massi E quando vai Che glielo A parte che bisogna Prenotare Però quando vai Dimmelo Così vedo Uno se c'è lui E due Ti faccio trattare bene Nel senso Glielo dico così Lui ti tratta bene Io se sono in zona Vado Sicuro Eh però Fatemelo sapere Conron Ok Allora Sette Run Aspetta un secondo No esce anche Ramma Ma non penso che sia scritto Se la sceglie In spetta Mida Mida Oran Per gli amici Allora Midareru Meidei Meidei Quindi dovrebbe essere Omidareru No Omidassu E Gamidareru Ciao Marco Non lo scrive quindi Non lo scopo Uè Arsa Buongiorno Ce l'abbiamo fatta ieri Per fare la cosa lì Tre ore Io sono appena uscito Che senso sei uscito Arara Mi Da Su Mi Da scuola Ah da scuola Ah è vero che oggi iniziava la scuola Mi sono dovuto prendere le occhi Avevo un mal di testa pazzesco E anche io avevo un mal di testa Avevo l'aria condizionata sulla schiena Ma C'è casino A scuola Anche perché Marco è uscito A facer un bordello Che tutta la gente sta andando a scuola Cioè a Milano Era un casino Confondere Aspettate che Mi è arrivato un messaggio subliminario Sebastiano 90 Fatti un massaggino Ok We transfer Sta per scadere Allora Midas Midas Ah poi Arsa Ma ieri io vedevo che c'eri online Sia tu che Cosmo Cioè eravate online tutti e due C'era sia Arsado che Cosmo Ghost Sei sempre tu Chi cacchio è Cosmo Ghost Rambo No questo è Midasu No questo è Midasu Midasu Confondersi Poi abbiamo Rambo Violenze Violenze Rambo Quello di Rambo Il secondo kanji La prima volta che lo vedo Che poi è figa 300 kanji in uno Rambo Rambo Violento Vabbè Lo condanno e lo scrivo Perché è ridicolo Conran Conran Essere confuso lo sapevo Conran Suru E che è quello di Konzazzo Che qua però non ce l'ha scritto Il primo ministro giapponese Si era dimesso Di quello lo so Per motivi di salute E tutti gli avvoltoi Sono partiti subito Per farsi eleggere Conran Ci dispiace Ti dispiace E leggete noi Perché vogliamo I soldi Conran Confuso Conzazzo Mi sa che Conzazzo Aveva un bel ciuffo Però non mi ha scritto Conzazzo Scusa Dove cazzo è Conzazzo Mi prende per il culo Ah no Conzazzo l'ha scritto Oh mio dio Non c'è Ah no Conzazzo l'abbiamo fatto Che è lo stesso kanji Che abbiamo fatto sopra qua Questo qua di Conran E lo stesso di Konzazzo E' affollato Più confuso Questo qua L'ho ripreso Ok 8 Allora Jun Questa è la prima volta Order Order Ah ordine Jun Questo Non è questo Jun Quello è Jun ban Quelle robe Jun o ordine Allora Jun ban Vai te me li mette tutti Jun Che significa Italiano Oggi Oggi Non esce Ordinare Ordinare Ordine E ordine Allora Jun ban E ordine Jun ban E numero d'ordine Jun ban E numero d'ordine Jun ban In ordine di numero Scusate Jun Non riesco più a parlare Jun ban Ordine Di numero Abbiamo Jun Jun In ordine di sequenza Jun Sequenza Sarebbe Jun Jun Questo non me l'avevo mai usato In vita mia Jun Jun Juzo invece è un nome Juzo Sì penso di sì Sequenza L'ho sentito ma non è proprio comune Comune Jun 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 è che sta avanzando Qua dice Jun Jun è quando Tipo Il lavoro sta avanzando Passando bene Jun 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 Vediamo se In italiano Si trova un Nel senso In giapponese So il significato Ma non mi viene la parola in italiano Come al solito Positivo Buono Vantaggioso Promettente Positivo Avanzo in modo positivo Positivo Panza bene Tipo Poi Poi Nove Abbiamo Sei Ketsu Questo non l'ho mai sentito Seijo Pulito Sei Kioi Kioi Questo non l'ho mai sentito Oggi sono tanti kanji che non conosco Meglio così Stiamo studiando Allora Kioi Mei dei Mei dei No E Kioi Non è Kioi Kioi Allora Kioi Chiaro o pulito Però Allora Kio O Sei Kioi Kioi Puro Più che pulito Sei Ketsuna Igenico Parare a dire Igenico Non vedevo l'ora Di dire Igenico Sei Ketsuna Mai usato Sei Ketsuna Igenico Alex Mi sono arrivate Le ventole Che ventole avevi preso Sei Show Sei Show Una coppia pulita ML120 Ah no Ti è arrivato Come si chiama Non le ventole Coppia pulita La Figa Non riesco a parlare Oggi Quello Della SPU Raffreddamento Della SPU Giun Ban Ordine Ordine Numerico Giuncio In sequenza Sarebbe ordine In sequenza Poi Giuncio No ancora Devo ritirare Gli altri pezzi Allora Sono solo Le ventole Giuncio Na Ma le prese Con gli RGB O senza Giuncio Na Positivo Favorevole Allora Chioi O6 Io non ve li ricorderò Questo qua Me lo confondo Sempre con Aoi Aspettate un secondo Questo qua è molto simile A Aoi Oggi Chiamo il tizio Per sapere se sono arrivati tutti Oggi chiamo il tizio Per sapere se sono arrivati tutti Che senso il tizio Ah ma Le hai ordinati In un negozio Senza RGB Senza RGB Bravo Non l'hai fatto Non te lo stai Non li hai presi Da Mazzum Sei chezzo E questo qua E quello di No perché lui È convenzionato Ok E quello di Ma sei ciò Aspettate un secondo Risparmi o qualcosina Questa parola Aspettate un secondo Che questa parola L'ho già vista Però non mi viene in mente Seiccio Non è la Bibbia Eh vedete Scusa Vedete Perché questa parola Me la ricordavo Da qualche parte Ce l'ho scritta Qua sul libro Davanti a me Però Più che coppia pulita Mi Non è Bibbia La cerco eh Perché mia moglie Queste cose qua Della chiesa Mi sta tirando scemo Aspetta Seiccio Seiccio Scusate Bibbia Bibbia Significa anche Bibbia Bibbia o coppia pulita Scrittura Però qua mi dice Però qua mi dice Il libro mi dice Il libro mi dice coppia pulita Adesso ne cerco un'altra Ah no Si trovate Ah no 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 niente Cagata Questo qua è Bibbia Ok Non è Si pronuncia uguale ma il kanji è diverso Vedete che è diverso Questo qua è Bibbia C'era ragione il libro Ho svegliato io a scrivere il kanji Seiccio Si pronuncia nello stesso modo Ma il kanji è diverso Ok Adesso ci sono Infatti dicevo Cacchio mi ricorda qualcosa Quel kanji Era la Bibbia Quello era giusto Ok ci siamo Mi sono ripreso Non è vero Otto Jun Vedete che scrivo Anche se non si vede niente Lo stesso Allora un piccolo Kawa Jun Ordine Ordine Junban In ordine di numero Non fate la coda Junban Jun Ordine Numerico Poi Quando l'ho scritto Jun 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 Sì Allora Junjo mi suona strano Junjo non lo userò mai però che ho un problema che quando le parole mi suonano strane che non riesco a collegarla al significato soprattutto che mi suona strano non riesco a ricordarle non le uso non usandole non me le ricorderò mai Junjo anche perché sequenza quando cazzo lo dirò Junjo mai non lo dico neanche in italiano sequenza Junjo invece sì Marco come vanno le lezioni? bene 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 siamo Junjo sta andando avanti bene come dice la parola che sto scrivendo adesso no bene in generale bene sto imparando cioè sto imparando mi sto ricordando un sacco di cose che avevo dimenticato e sto imparando anche parole nuove quindi direi ottimo direi così sfruttiamo il tempo che sono a casa in modo utile per il futuro e poi cosa mi aspetterà non lo sa nessuno ma chi vivrà vedrà allora positivo favorevole comunque ti avevo chiesto prima Cosmo chi era Cosmo ieri? c'eri tu c'era Cosmo e Arsado online ma siete stavate giocando insieme siete la stessa persona o eravate in due o un altro o un altro che non conosco 9 e chi ho i? eravamo in due ma l'altro chi è? tuo papà o un tuo amico? stavano facendo una privata ah ok quello si l'avevo visto che stavate facendo però mi è confuso perché so che tu sei Arsado mio papà ah ok eravate tu il tuo papà bene io e lui è da novembre sì è da novembre che non non l'ho visto più la quinta volta che ho giocato insieme a qualcuno è stato il tuo papà poi sono tornato adesso su Destiny allora chi ho i? chi ho i? allora chi ho i? chi io i chiaro puro chiaro poi sei sei chezzo sei chezzo ma contenere la mascherina in classe per 5 ore è impossibile no fa un caldo boia poi dipende che tipo di mascherina usate però è fastidiosa io fai conto che quando sono stato in ospedale non me la toglievo io perché non volevo morire di qualcos'altro però l'ho tenuta su tre giorni di fila praticamente chirurgica è quella chirurgica esatto come quella che tiene caldo ma è su di tutto cioè fa un caldo boia sei che capisco però meglio se la tenete per voi perché siete andati sono andati tutti in vacanza sono tornati chissà da dove cazzo sono arrivati anche perché i numeri aumentano sempre di più quindi io non le avrei aperte le scuole sinceramente come cinema e come le discoteche come le chiese si tiene solo la maschera di Astro infatti ah no ce le ho va rese ho le maschere di Camer Rider e le robe varie dopo vi faccio vedere vedremo i numeri fra due giorni vedremo i numeri fra due giorni no non è così veloce dai di solito si vedono dopo due settimane i primi numeri però vi ricordo che quando ci sono state malate dieci persone la gente è corsa a casa urlando a moriremo tutti quindi adesso ce ne sono mille e quattro e sono tutti tranquilli io per fortuna ho finito le lezioni eh ma se poi dovrai lavorare o fare qualcosa devi incontrare la gente il problema è quello sia a scuola che al lavoro con gli amici ma anche i parenti cioè tu dici magari vado a trovare mio zio mia zia che cacchio ne so mia zia mia zia che ha incontrato il giorno prima oh è un bel bordello 6 show ah certo coppia pulita aspettate che vi faccio vedere l'oggetto del giorno ora io zio non ti è costumato però meno giri e meno probabilità di contagio ci è si è arrugginito il mio zippo preferito camellaita si è arrugginito tutto non lo uso da mille anni ormai no e poi abbiamo anche questo qua me l'aveva regalato un mio cliente non l'ho mai aperto è ancora chiuso con lo zac con lo zippo si sa se è lo lucido se diventa pulito di nuovo coppia anche solo qua vi faccio vedere anche questo poi basta tu torni a mostrare boss robot boss robot vediamo la vetrina piena di polvere ho richiuso la vetrina che è piena di polvere il tetano prendo adesso perché Mako dice che le mie cose non me le pulisce e quindi c'è un metro e mezzo di polvere ah che caldo allora qua abbiamo scritto 6 cioè coppia pulita andiamo avanti 10 sumi angolo sumia e angoletto questo si pronuncia solo sumi sì sumi angolo sono passate due ore io non ho fatto ancora niente bene la lezione durerà molto interessa sumi angolo angolo sumi zoomi dentro e fuori non me lo scrive perché zoomi zoomi perché non me lo scrivi no 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 me lo scrive ok Alex ti piace la liquirizia no la odio perché mi fa diventare tutti i denti neri no non mi è piaciuta la liquirizia sumi zoomi e inside out dentro e fuori non è vero mi piace giuro mangiavo l'albero di liquirizia perché in collegio quando ero in collegio dei preti c'erano gli alberi di liquirizia e me ne ho mangiati così tanto che adesso appena sento l'odore mi viene da vomitare eh nuque nicchia poi abbiamo questo è questo coso biru questa roba posso mi ha messo un kanji così a caso che non ha significato bifaita bifaita kabuton allora co co mangi qua è la prima volta che lo vedo però non mi dice cosa significa prato interessante prato o zo so e basta prato e poi mi dice coso biru dovrebbe essere un palazzo a tanti strati coso biru posso biru vediamo se c'è un significato grattacielo grattacielo ok poi abbiamo okuru okuru è mandare un regalo regalare qualcosa okuru monò è regalo sì infatti 12 non ha capito che cacchio c'entra regalo siamo partiti da mostra e siamo arrivati a regali e grattacieli a caso perché mi ha messo questo kanji qua oh non c'entra niente con il resto okuru questo quello è spedire okuru mandare un regalo e zo allora okuru potrebbe dare okuru simonò è un regalo okuru simono taglie sai che ce la fai rega poi confer vediamo cosa significa conferire consultare assegnare dare praticamente allora sumi che è l'angoletto o la nicchia sumi zoomi e dentro e fuori questo non lo sapevo questo qua e questo kanji qua sarebbe il doppio kanji uguale quando trovate questo qua il kanji davanti è ripetuto due volte sumi e zoomi so che è strato e coso e altri strati billi in questo caso è grattacielo tanti strati di palazzo che è grattacielo e abbiamo okuru o zoo zoo non mi mette il esco a scrivere zoo da solo esce do do e incrementare no però si legge devo staccare alla prossima vai tranquilli massi e grazie per la compagnaia alla prossima puntata no è diverso anche il kanji quindi no non esce oku no non me lo mette neanche quindi niente non c'è mi ha messo l'altra lettura che è zopera non me lo dà quindi rimarrà così okuru è dare o conferire vado avanti ok seba buon appetitone ok ok buon appetitone e dopo guardo quello che mi hai scritto e controllo comunque hai cliccato nel mio video funzionava è presto per mangiare ma che ora sono le 11 ma sono in live da due ore ho iniziato e che ho iniziato tanto io fretta non ne ho allora scriviamo questi e poi facciamo gli eserciazzi zizi allora il 10 e qua sumi 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 tutto l'anno non c'entra niente però e allora dove vai dove vai se non io pensavo che era già mezzogiorno sumi sumi angolo angolo o nicchia sumi 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 pancia che parla da sola molto bene sumi inside out poi abbiamo 11 so che è strato io non ho capito perché mi sta insegnando grattacielo che non c'entra un cacchio con la lezione però va bene lo stesso dobbiamo dire so strato alto più so co so grattacielo io scrivo grattacielo lol ok poi 12 ok 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 presento ah ce l'ha messo perché questo simbolino qui e qua dentro boh non so che collegamento abbia fatto però quello lì ok 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 adesso facciamo gli eserciazzi sperando di ricordarmi come si leggono le parole e controlliamo i kanji allora dov'è il foglietto? così vedete dove lo sto leggendo allora cos'è questo? già questo zuichi non lo so leggere zuichi nion no jinro jinro man no kozo no enka o shimeteiru questo qua è poi suzuo kitaito wa mawari itori mo inakata mawari poi watari no mawari dovrebbe essere intorno alla persona ok ekimae no kosobi ecco perché me lo si chiama kosobi rogat tachi kondiru davanti alla stazione c'è davanti alla stazione ci sono i i grattaceni in fila comunque è coso questo qua te tzu zuki yoshi otto shitarà password no nyuryoku ga eh 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 guai era yokyu sareta yokyu cosa significava però una delle parole nuove eh yokyu era richiesta ok quando stavo facendo l'iscrizione mi è uscita la richiesta di inserire la password eh comunque yokyu è questo qua eh kae jo no konzatsu ga ito ga eh ito idokattano de visto che ehm eh c'era molto affollamento nel posto dovevamo incontrarci eh okure te shimata sono arrivato in ritardo konzatsu e questo qua poi kekon eh kekon surutu modachi ni nanika okurimono dobbiamo fare un regalo ai miei amici che si sposano è questo che l'abbiamo appena scritto bedono eia eh no eh dovrebbe essere sumi ni oitekudesai metti il letto nell'angolo della stanza qua eh poi abbiamo kanojo wa eh majime ni eh eh questo era eh questo eh eh cosai steimas cosai dovrebbe essere sì cosai allora eh dovrebbe essere eh cosai era tipo eh confrontati con lei seriamente cioè confrontati con lei seriamente o associati con lei seriamente konokuni e wa e keisaiga eh kyusokuni eh atten steiru atten era questo eh eh questa la nazione di questa cioè l'economia di questa nazione si sta sviluppando velocemente si sta muovendo sta avanzando velocemente questo qua era quello di che non lo rilogio mai era quello di come c'è che si chiamava eh dovrebbe essere questo qui quello di circonferenza allora abbiamo detto che questo era mawari o eh shuen quindi shui parlato a caso è giusto shui ni midori gaoi yeni sumitai vorrei vivere eh in una casa eh vorrei vivere in una grande casa no in una in una casa dove c'è tanto verde circondata questa qua non più che circonferenza aspetta circonferenza qua c'è scritto circonferenza però sarebbe essere circondata dai shui anche circondata beh comunque circonferenza praticamente sarebbe vorrei vivere in una casa dove nella circonferenza c'è tanto verde però in italiano fa schifo loro lo dicono così allora ultimo esercizio scusate non si vede la fama eh wagasha dewa eh kokusei tekini eh 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 questo qua è katsudo no non è katsudo ma non è quello di sei katsu però dekiru ito wo eh shimetei mas wagakai shano katsu yaku katsu yaku è lavorare allora la mia azienda eh eh ha deciso chi è che può lavorare internazionalmente shimetei mas si è mostrato che può lavorare eh internazionalmente onama e wo eh ni yobi mas no de omacite kudasai onama e wa jumban questo è chiamerò il vostro nome in ordine di numero aspettate eh yoku sojiste atte eh questo qua era quello igienico eh boh che non so dirlo toire da comunque abbiamo fatto bene le pulizie quello igienico eh è una toilet bella igienica che è seike zu na toire è giusto poi eh tai fude eh kotsu eh ki ikanga eh con rasteru per colpa del tifone il 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 traffico è molto confuso dovrebbe essere conran ah non mancava una eh sagyo naio wa eh ashta no meikaku ni eh atten stekudasai e l'altro è shiji stekudasai meikaku non lo so comunque dovrebbe essere spiegami il spiegami il tipo di lavoro che dobbiamo fare dovrebbe essere questo qua o mostrami il lavoro che dobbiamo fare comunque questa parola qua dopo la cerco meikaku kakunin è quello di eh che si chiama di ricerca ok scriviamo e cerchiamo l'esercizio one allora eh zuichi adesso lo cerco zuichi questo qua è quello di di mappa chizu però in questo caso da solo cos'è da solo no zuichi lo cerco figura 1 bene questo tipo lo sapevo si diceva figura 1 cos'è figura 1 a neon no ginkgo ginkgo riesce ginkgo ok ginkgo coso lo devo cercare coso o è una parola nuova no mi sa di no però costituzione meccanismo struttura la struttura della popolazione in giappone la figura 1 no enka cambiamento no enka wo shimete wo shime ste la figura 1 mostra il cambiamento della struttura della popolazione giapponese figa che bordello della popolazione del giappone no queste due parole qua non le sapevo si mette posta poi 2 tutsu e abito tutsu uo kitaito zona che si è messa l'abito ma ma uarini ma uarini tori torimo inakata attorno alla persona che si è messo l'abito non c'era nessuno non ho capito che significato ha però è quello e chi mai è davanti alla stazione ni con grattacielo ga taci davanti alla stazione mamma mia i grattacieli sono in piedi in fila dovrebbe essere ci sono i grattacieli in fila davanti alla stazione 4 te suzuki te stavo per fare l'iscrizione passato 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 no nyurioku nyurioku passato no nyurioku uo occhio stavo per fare l'iscrizione quando mi è apparsa la pagina per far inserire la password nyurioku kaiju posto di no konzatsu siiu shiu konzatsu ga idokata c'era c'era molto traffico nel posto di incontro visto che c'era tanto traffico nel posto di incontro ciao peppino ue giuli tsukare teshimata tsukare teshimata mi sono stancato qua vorrei dire mi sono perso prima invece mi sono stancato tsukare teshimata konzatsu traffico affollamento eccetera eccetera niente ok schiamo queste fantastiche frasi come va giuli cioè lo so come va ma dimmi in quel senso in un altro senso aia qui davis oggi dovevano far vedere le prestazioni della 3080 invece le hanno rimandate a 17 e quindi non sapremo mai se è veramente potente o no 1 zuichi immagine 1 insomma lo scrivo che non lo sapevo zuichi dopo zu lander cioè zuichi zuichi immagine 1 o a nion giappone nion ginkgo cerco di avere lo so è fatto bene vedrai che poi sarei più contento 5 sono questione di tempo come la mia ferita sulla pancia è solo questione di tempo fa male ma passerà salvo a milano con amici eh se viene a milano dimmelo no vediamocici se vuoi sempre se hai voglia se viene a milano vediamoci noenca 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 cos'è che c'è cos'è che c'è a milano in quel periodo c'è la games week cos'è che c'è in quel periodo non c'è niente eh eh zuichi nion eh ginkgo eh questo qua me lo devo scrivere cos'era eh eh co 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 che è struttura o sistema co co struttura parti da Alex parti esatto sistema noenca o c'è c'è allora la figura 1 mostra eh il cambiamento della struttura della popolazione giapponese fighe che bordello 2 suzù questa frase non l'ho capita allora la persona che si è messa l'abito attorno a lui non c'era nessuno ok allora c'è cosa c'entra che si è messa l'abito boh mi confondono queste parole qua suzù suzù e abito non c'è niente mi aiutano a distrarmi ah ok allora va bene no pensavo che c'era qualche fiera qualcosa venivate su per quello ita ma è tre giorni dove dove ti fermi cosa fai in tre giorni itoa maware siete in albergo sei a casa di amici sei in montagna ito rimò in akata quindi compro i pezzi del pc così mi aiuti ti faccio lavorare suzù o kitaiton o maware ni itori mo in akata vicino alla persona che si è messa l'abito non c'era nessuno frase un po' così e chi ma è davanti alla stazione hai visto il mio file sei riuscito a aprirlo a casa di questo ma ce la faccio con i mezzi pubblici a venire da te e mi devi dire dove non so dove abita però esatto mi devi dire dove abita e come si chiama hai visto il file che ti ho mandato su su line ho creato il mio primo file html me l'ha spiegato seba visto che me lo devi spiegare tu ma sei cattivo e non vuoi che divento famoso e ricco e quindi sono passato alla concorrenza sono passato a amd taci narande o non l'hai visto l ho visto xd ah l'hai visto seiba mastro esatto no perché volevo fare il sito a maco però volevo farlo io cioè non volevo pian piano è che dovevo farlo entro domani infatti che seba fate lo faccio io no però voglio imparare a farlo io perché poi se devo aggiungere pagine fare cose volevo farlo io tanto vabbè diciamo che la la base ce l'ho però i programmi sono nuovi io sono rimasto i programmi del 1980 quindi al massimo vi posso fare un programma con il ritorno al futuro come era il ritorno al futuro si era il ritorno al futuro e Suzuki Shio Toshita stavo per aggiornati esatto esatto infatti grazie a lui quello che spiegava lo capivo subito non è che dovevo stare lì a pensare eh no volevo farle un sito dove mette sui suoi cappelli le sue cose per no no è normale è normale e poi se clicchi non lo so se clicchi sulla foto si apre la foto ti fa vedere tutte le foto del tipo di quei cappelli di quel genere di cappelli o ti manda a Instagram o robe varie una cosa normale niente di che poi se chiederanno tante persone poi lo trasformo in un e-commerce ma non penso cioè giusto per far vedere le sue cose o lei può dare ai clienti il sito così possono vedere di che cosa fa anche perché la lasciano a casa adesso a ottobre è finito anche lei siamo la casa la casa di Vianello a casa passwado passwado è la password passwado no jinyuryoku casa michello esatto michello questo non me lo ricordo di nuovo cos'era yokyu 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 sareta allora stavo per fare l'iscrizione quando mi si è aperta la pagina per inserire la password 5 kaijo che è il posto d'incontro kaijo kaijo no konzatsu c'era tanto casino il posto d'incontro è che mi sono perso intanto io mi perdo sempre konzatsu 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 ga si matta ok poi dos un dos tres hai visto poi giuli giuli dove c'è scritto fammi un regalo che cosa si apre che con figa non vedo niente che con loro tomodachi gli amici che si stanno per sposare tomodachi ni nanika volevo fare qualcosa di regalo ai miei amici che si sposano okurimono stai regalagli un un come si chiama un avvocato divorzista ok due bedo a bedo che è letto per gli amici bedo di mamma bedo 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 a eia eia stanza no sumi il letto è nell'angolo della stanza è stato appoggiato nell'angolo della stanza sumi sumi canojo tomajime ni kosai canojo 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 to to ma ma jimeni seriamente ma jimeni kosai mi sto confrontando con lei seriamente mi sto vabbè la lasciamo perdere comunque avete capito con lei confrontati seriamente 4 kono eia allora konokuni che cazzo sto dicendo konokuni questa nazione wa keizai economia fuori di dirlo l'ho imparato keizai ga kyusoku kyusoku a super velocità ni atten steiro questa nazione l'economia di questa nazione si sta avanzando velocemente atten e poi l'ultima questa qua era non l'ho capita questa qua giuro che non l'ho capita dice che circonferenza ma la frase dice un'altra cosa ma ma wari hi che si diceva su sui ni mi dori è verde mi dori ga oi è tanto oi ie i è casa ni sumitai vorrei vivere in una casa dove nella circonferenza c'è tanto verde tiro la casa però dici tu che circonferenza io ci credo allora scriviamolo scrivi anche tu che con surutomodacini uno che con ninja jiraya che con ninja jiraya i need ninja jiraya grandi testi campione surutomodachi jirawajiraya tomodacini nanika nanika okurimono vorrei regalare qualcosa ai miei amici che si sono sposati okurimono giuli ci sei ancora ricorda di chiedere al tuo amico dove abita così ci organizziamo senza imparare senza impegno magari beviamo qualcosa mangiamo qualcosa passiamo un po' di tempo insieme ti picchio e poi puoi andare via beddo beddo di mamma ua mi ubriacate no non posso bere io a parte che non bevo dalla vita e non perché non lo so non ho più più lo stimolo di bere cioè prima non è che bevo tanto però bevevo quando uscivo con gli amici adesso ho smesso di fumare di bere di mangiare di respirare di trombare ho smesso di fare tutto praticamente perché faccio tutto subito e non ho una via di mezzo come vedete anche quando compro le cose per il computer compro la cosa che costa di più perché sono stronzo non perché esatto no e perché faccio tutto subito e mi annoio subito delle cose infatti quando i miei amici mi dicono dai beviamo insieme gli dicono no no io bevo solo con gli amici tipo brinda con noi il mio compleanno no mi dispiace io bevo solo con gli amici gli dico c'è bastardo modo carino per dirgli che non sono loro amico ah no Giottoa con lei Majime Majime Ni veramente cos'hai cos'hai jiban jiban ito wa dare demo jiban jiban ok kanoja toa ma jibeni cos'hai steimas mi sto confrontando cioè praticamente mi sto ho la relazione con lei seriamente se la vena italiana però letteralmente con lei mi sto confrontando seriamente quattro konokuni questa nazione è una mörda konokuni la nazione oa keizai economia portami via keizai 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 ga kyū soku alla velocità della luce velocemente soku ni atten sta avanzando velocemente l'economia di questa nazione sono contento per loro nemo jiban jiban atten steiro chido e gi jiban shui questo qua adesso ma lo cerco di nuovo perché a me dava il libro dice circonferenza ma comunque dovrebbe essere dei dintorni anche non solo circonferenza e se no non ha senso la frase circonferenza e vicinato anche dice neighborhood quartiere quartiere vicinato circontariato dintorno i paragisi comunque significa anche circonferenza sciui chido che gigiban jiban jiban ito adaredemo midori è verde come i miei denti midori ga poi martedì mi viene ah no martedì è domani domani dovrebbe venire queen umitai a milano non ha detto che veniva lui e poi abbiamo il 18 19 abbiamo tiricchio bene settimana in compagnia allora l'ultimo eserciazio mayday mayday 1 aspetta che copio perché mi dà fastidio cioè copio copro volevo dire che non voglio copiare così mi alleno a leggere i canji wagasha wagasha che sembra una cosa brutta invece significa la mia azienda wagasha e wa nella mia azienda kokusai kokusai internazionale katsuyaku katsuyaku questo me lo scrivo perché non lo so non lo so un mio amico abitava in zona sant'ambrogio 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 è vicino dove lavoravo io lavoravo cioè lavoravo in garibaldi ho anche la banca lì infatti ogni volta che do andano in banca devo andare lì mi sa che la devo cambiare la banca da lì konzatsu dekirohito dekirohito imeteimasu si aspetta un secondo questo qua è digitamas altra niente è tutto scritto in corsi non so per qual cacchi di mette il mero non ce l'ho il mero me lo dà sai che sbaglio scusa ah shime il mte non esiste ho sbagliato shime su e questo è congite imas cos'è congite imas no ma ah ma gite imas ok infatti non mi dava il caso ho sbagliato guarda così infatti non mi tornava la forma del verbo perché è sbagliato allora praticamente la mia azienda mischia attività con persone che lavorano internazionalmente dovrebbe essere ok quindi ma gite imas questa l'avevo sbagliata non l'ho scritta quindi non l'ho ancora sbagliata ma l'avevo letta sbagliata avevo messo shime te imas invece non c'è però c'è non proprio cioè mancava al su quindi questo qua è proprio sbagliato questo è moto aspetta moto mette imas però no allora moto mette imas no 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 l'ho pronunciato io male moto mette imas la mia azienda cerca persone che riescono a lavorare internazionalmente questo ha più senso omae omae è tu o no invece questa è un amae o namae o namae il nome uo giumban in ordine di numero giumban giumbanni io bimass no de visto che chiamo i numeri in ordine di numero i nomi visto che chiamo i nomi in ordine di numero figa che mi si intreccia la lingua o maci kudasai aspettate o maci kudasai aspettate o da poi tre sto stropiccendo il foglio ho metto qua yoku soji shi a te ho pulito per bene yoku soji o soji shi te a te ho pulito bene oji shi te a te non è questo neanche io questo qua è igiene seikezu seikezu na e toire na ho pulito proprio bene è una è un cesso bello igienico bello qua invece abbiamo messo jumban in ordine di numero e qua invece abbiamo messo motometeimas che stanno cercando persone che abbiano lavorato all'estero cioè internazionalmente in teoria poi taifu paifu tifone de non ricordo più posso quell'altra parola non la sapevo neanche prima non mi escepevo scusa è giusto kotsu mi affanculo kotsu kikanga comunque questo me lo scrivo tutto perché non lo sapevo dovevo cercare lo so leggere ma non mi ricordo il significato kotsu kikanga conran allora magari cambia il significato trasporto e l'altro è kikanga trasporto lo sapevo organizzare motore di ricerca tifone con la frase vabbè il trasporto dovrebbe essere il trasporto comunque per colpa del tifone l'organizzazione del trasporto è in confusione impazzita dovrebbe essere con Ranstere in italiano non si dice ma in giapponese si dice perché ho sentito dire saggio naio mei kaku questo lo devo segnare che è quasi prima saggio e lavoro saggio naio il contenuto del lavoro mei che era kaku ni che lo controllo perché non me lo ricordo il significato kakunin è quello di cercare kaku però non me lo ricordo siamo confusi kaku e chiaramente chiarire chiarire significa ni ah ok shiji dai ordini chiari shiji steku da zai dammi ordini chiari del del contenuto del lavoro saiggio naio wa mei kaku ni shiji steku da zai la risposta comunque questa è la prima volta no non è la prima volta però non me la ricordavo chiaramente kakunin dovrebbe essere kakunin cercare kakunin non è cercare quando controlli se controllare ok e questo qua domani controllare domani non mi dava il significato quindi ok è scritto tutto quelle parole adesso me le scrivo allora abbiamo katsu katsu yaku che lo sapevo ma so stronzo e non me la ricordavo katsu yaku katsu yaku katsu yaku katsu yaku allora uno wagasha che sembra bagasha invece significa la mia azienda wagasha wagasha nella mia azienda kokusai che è internazionale la mia azienda bagasha esatto la mia azienda di bagasha sarebbe kokusai e chi adesso sto guardando un telefilm dove ci sono due ragazzi che tipo scuola di polizia giapponese che vanno in giro a fare a arrestare la gente che non sono poliziotti e tutti li picchiano a sangue perché tanto non sono poliziotti katsu yaku c'è lo so ma non l'ho letto di merda katsu yaku c'è solo il significato ma non l'avevo letto dechiruito cercano persone che riescano a lavorare internazionalmente o motomete motomete la mia azienda sta cercando persone che siano in grado di lavorare internazionalmente eccomi qua due onamae onamae il nome onamae wo jumbande sto chiamando i nomi in ordine di numero che poi in jumban dovrebbe essere in ordine alfabetico però jumban i nomi sono in ordine alfabetico non in ordine di numero sto chiamando i nomi in ordine e basta yobi masnode visto che sto chiamando i nomi in ordine di numero masnode aspettate e non rompete i maroni omaci kudasai omaci aspettate ma io mi chiamo zuzzurellone figa mi chiamerai tra 60 ore 3 yokus oggi ho fatto le pulizie per bene e in questo cesso ci puoi mangiare yokus oggi oggi è pulizia oggi oggi poi fammi vedere quando lo fa il pc cioè fammi sapere io invece adesso mi sa che mi comprerò una scheda cinese per mettere su l'altra scheda grafica perché praticamente quando gioco a pc mi bizza giuli doveva aiutarmi ma poi è scappato come al suo solito perché pensa sempre alla gnocca e non a me io pensavo che mi amava invece a lui piace la patata e quindi niente non li capisco queste persone na toire da perché mi bizza mentre registro e mi dà fastidio ma con patatina perché mi sa che raggiunge o il come si chiama il il trasformatore che avendo su più di 10 hard disk e due schede grafiche la CPU non ce la fai quindi bizza non ce la fa mantenere tutto acceso insieme sono io stronzo che faccio tutto insieme perché mi piace però anche il pc ogni tanto mi dice mi manda a far culo e quindi volevo volevo fare due pc anche con un alimentatore del cacchio da 650 ci metto la scheda una scheda l'alimentatore il praticamente devo comprare solo una scheda madre e un un case e basta sì vabbè anche il raffreddamento però ne prendo uno anche a 70 euro una cosa tranquilla tanto che con quello lì non è che gioco farò solo rendering e robe varie quindi è rendering faccio solo la registrazione del file e poi me lo passo sull'altro computer e lo renderizzo con l'altro che ha la scheda più veloce a parte che il rendering è uguale sia che tu hai la 2060 che la 2070 vanno alla stessa velocità perché il rendering viene fatto da un chip che è all'interno della come cazzo si chiama ho scritto due atti allo stesso cange che è all'interno della della GPU monterai AMD non lo so no non penso no ho già ho come si dice il problema è questo che io ho già la CPU ho la CPU mia vecchia quindi non faccio altro che montare la CPU vecchia mettere l'altra cioè la RTX 2060 sull'altro pc e così c'è anche uno piccolo volevo fare un mini piccolino da tenere qua tipo sul tavolo perché sotto sennò è pieno di cavi robe varie giusto per farlo registrare gli metto quello gli metto l'elgato dentro o l'elgato gli metto dentro o gli metto l'altra perché io sono stronzo qua ho altre adesso ti mando una build op ho altre va bene posso fartelo vedere se non devo smontare il cassetto che ha messo in ordine la macchina mi manda affanculo comunque ho altre schede di acquisizione che non sto usando robe varie quindi ok ma non è che devo fare una cosa pivo il mio cosa ho l'x99 la cpu è sull'x99 adesso non vendono niente dell'x99 il problema è quello infatti ho chiesto anche in giro se qualcuno ma sui byte li vendono a 300 e passa euro col cazzo che compro una cosa di 5 anni fa 300 euro o se no su amazon però vengono tutti della cina quindi mi sa che mi prenderò una cinesata e vediamo come va sperando che non mi fonda la cpu però vabbè se me la fonde tanto è lì a fare niente quindi allora tai fude kotsu kikan e questo non lo sapevo e qua katsuya con lo scritto con rai stile e per colpa del tifone il traffico è impazzito è confuso dovrebbe essere confuso ma non si usa confuso in italiano saggio è lavoro saggio è lavoro produzione aspetta che adesso mi mi sto confondendo perché dopo tre ore inizio a perdere i colpi occupazione lavoro operazione si si lavoro allora saggio naio agio naio qua meikaku insomma lo scrivo meikaku era chiaramente questo non lo sapevo proprio che scheda madre ci vuole per quella cpu x99 nella x99 che è quella che sto usando anche adesso nel senso praticamente con massimo 200 euro mi faccio un altro pc ma 200 250 forse 300 però 300 era un pc va bene comunque lo accendo solo quando faccio le live o solo quando devo registrare che praticamente sempre faccio le live o registro allora che poi no niente mi servirebbe solo quando faccio le registrazioni mentre gioco dal pc perché se gioco dalla play posso farlo tranquillamente con questo perché quando praticamente gioco da pc e in più faccio quel registro e robe varie mi fa casino mi dà fastidio perché io di solito registro i pezzi ti servono mi serve solo la scheda madre l'alimentatore raffreddamento e basta è un case piccolo non è che lo voglio così è un case se trovo gli tx bene se non c'è gli tx va bene anche uno normale allora niente chiaramente vediamo gli esercizi se li ho fatti giusti ci si salutazza allora lezione 2 parte 2 motomete è giusto raffreddamento sì normalmente uso quello a liquido tanto costano uguali ormai quello a vento a liquido stessa gli harddisk ce ne ho una valanga quindi gli metto un harddisk qualsiasi che ho qua io lo di harddisk anzi nella play 3 nella play 3 nella vecchia play 4 ho ancora dentro gli ssd li tolgo da lì e li metto dentro al computer allora giumba se vuoi uno ad aria c è noctua obiquite sì sì va bene obiquite il discorso è che non ho pretese non è che deve volare perché tanto alla cpu di 5 anni fa la scheda grafica va bene però l'unica cosa che deve fare è registrarmi i file poi dopo li uso cioè li metto sull'altro pc poi invece quando prenderò quando farò l'altro pc questo qua che sto usando che ha dentro 1000 harddisk lo faccio diventare un server con tutti gli harddisk che mi copiano i dati e robe varie e l'altro lo uso come pc se tanto li trovi sotto i 90 sì 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 esatto lo scopero a quello allora motometè è giusto poi dove cacchio è l'altro jumban è giusto no che cazzo è seichezuna è giusto che è quello igienico è un cesso bello igienico poi conran è giusto e shijiste è giusto la cpu vecchia che gen è la cpu vecchia che gen è è un i7 generazione 5 penso è 5820k dovrebbe essere è un 6 core i75820k e poi ho cambiato con il 6009 perché potevo metterlo sulla mia generazione però praticamente ci metterei quello e la RTX 2060 penso allora niente sono stato bravo ci vediamo oggi pomeriggio domani penso che ci vediamo domani a meno che oggi non mi viene voglia di giocare ma penso che registrerò i giochi giapponesi per youtube quindi penso che ci vediamo buon pranzo buon pranzo grazie a tutti quelli che sono passati grazie a Massi grazie a no Dani non c'era ma lo ringraziamo lo stesso grazie Davis e Seba ci vediamo ban presto vado che sto colando adesso vado a accendere l'aria condizionata bye bye e grazie anche a Giulie che è passato ed è scappato ciao